un mazzo di rose da sei mesi stava il mazzo di rose bianche nel vaso del salotto abbassito e secco naturalmente non emanava più il profumo di mezz'anno prima quando la signorina Carla Calinova lo aveva portato fresco liampendo la stanza sebbene fosse d'inverno di odore d'estate state attenta a quelle rose quando fate le pulizie ordinava la signorina alla domestica e tu papà diceva il signor Calina non ti mettere le rose nel tabacco e ma attacarla rispondeva il signor Calina sai bene quanto io stimi simili doni d'amore io mio anch'io quando ero celibe portavo a tua madre le rose non arrossire si dice che i piccoli doni mantengono l'amicizia e che dall'amicizia si può sviluppare l'amore e dall'amore viene di solito il matrimonio e il signor Malick ti avrà donato questo mazzo certamente per amicizia il resto concludeva l'esperto cassiere capo in pensione volentieri ti vedrai già sistemata perché arrossisci ogni donna si sposa volentieri il signor Malick è un uomo ricco maturo ben situato e prima di morire aggiungeva Malinconico come migliaia di altri padri ti vorrei vedere felice il signor Calina aveva acceso la pipa e andando su e giù per la stanza fumava la sua prediletta miscela di vari tabacchi con una piccola aggiunta di quei petali di rose che danno al fumo del tabacco un fine aroma sebbene nell'osteria dove si recava quotidianamente gli amici dicessero che il fumo della sua pipa non era molto diverso dalla puzza di una serra bruciata e qualcuno pensasse addirittura al bruciare di una bica è la cosa più sana una piccola aggiunta di rose aromatizza il fumo diceva il signor Calina per difendere la sua miscela peccato però che già mi stia affinendo la piccola provvista di rose che avevo fatto l'estate scorsa e non mi va di comprarle secche dal droghiere perché da tutto è impossibile trovare nei negozi le rose pure vi mischiano tanti altri fiori per esempio le peonie che i ragazzi raccolgono nei cimiteri e valle poi a fumare come se fumassi i fiori delle tombe credetemi sono davvero avvirito quando mi finisce la provvista ma le rose secche non erano finite al signor Calina ebbe presto il piacere di tagliarle a strette strisce ai pezzetti cosa che loro allegrava sempre moltissimo come un presentimento di quei momenti belli e gradevoli in cui pezzetti delle rose mescolati al tabacco avrebbero cominciato a sfriggolare dolcemente riempiendo dei loro anelli odorosi tutta la stanza e altre due tre stanze la cucina l'anticamera il corridoio la signorina Carla tornò un pomeriggio dalla passeggiata detto in tono ufficiale da una visita a un'amica scusa a cui ricorrono quasi tutte le signorine innamorate portando a casa un altro mazzo di rose non bianche ma gialle e fece subito coi fiori ciò che si fa di solito riempì il vaso d'acqua e il vaso con le rose gialle restò per un quarto d'ora accanto al vaso col mazzo di rose bianche sono anche queste del signor Maric domandò seccato il signor Calina pur di dire qualcosa sempre rose nient'altro che rose no papà rispose la signorina Carla queste belle rose me le ha regalate il signor Ning un signore molto simpatico non lo conosci è molto carino bruno simpatico lo conosci certamente il signor Ning non lo conosco disse il signor Calina ti prego che ne dirà il signor Maric non sai nemmeno tu quello che vuoi con quel signore ho rotto tutti i rapporti disse la signorina Carla con sorpresa di suo padre pensa che già da tre settimane conosco il signor Ning devi conoscerlo anche tu è il signore che al ballo quella volta ha ballato tutte le danze con me vedi oggi è andato in campagna e amministratore di una tenuta e mi ha portato per ricordo queste rose non ti sarai arrabbiato papà il signor Maric era un vecchio scapolo un brontolone mentre il signor Ning è così simpatico è bruno ancora giovane è bello papà e gli scriverò spesso guarda queste rose gialle come odorano ed è il primo mazzo che ne farai domandò il signor Calina puoi tagliarlo a pezzetti per il tuo tabacco papà disse generosamente Carla e non ti arrabbiare col signor Ning ma vai sciocchina disse il signor Calina e da quel momento si dedicò al taglio delle rose bianche ormai secche mentre nel vaso odoravano le fresche rose gialle quello stesso giorno aggiunse le rose tagliate al tabacco il fumo dileguava dileguava come le speranze del signor Maric anche le rose gialle divennero secche e restarono impolverate nel vaso perché la domestica ebbe l'ordine di non toccarle e quanto più stavano nel vaso tanto più diminuiva la provvista delle rose tagliate del signor Calina tra poco finirò di fumare il signor Maric disse il signor Calina personificando il fumo e dopo finché un giorno la signorina Carla portò a casa un nuovo mazzo di rose questa volta rosse e disse caro papà non ti arrabbiare col signor Kautsky parli del mio vecchio amico o di suo figlio domandò meravigliato il signor Calina parlo del giovane Kautsky rispose la signorina prenderà presto la laurea è simpatico e con questo domandò il signor Calina mi ha dato queste rose rispose la signorina e chiede il permesso di venirci a trovare qualche volta quel giorno il signor Calina tagliò a pezzetti nel suo tabacco le rose gialle del secondo mazzo e il fumo svenì di nuovo stavolta come le speranze del signor Ningr fumo il signor Ningr diceva e che sarà dopo poi si mise a fumare le rose secche comprate dal droghiere perché il signor Kautsky quando si fu sposato con sua figlia Carla non portò più mazzi di rose questi regali gli uomini li fanno solo prima delle nozze Kautsky Kautsky Kautsky